Nuovo SUV Peugeot 3008 e il suo i-cockpit, la concezione di guida unica al mondo e l'advance grip control per la massima aderenza su ogni terreno. Peugeot 3008. Mai un SUV si è spinto così lontano. Peugeot. Amplifica i tuoi sensi con la tecnologia del nuovo SUV 3008. Richiedi adesso un test drive alla concessionaria SCA Peugeot di Napoli oppure scoprilo in via Scarfoglio, Agnano, Napoli. Nuovo SUV 3008 e anche in via Filangieri il 12 e 13 aprile per una diretta speciale con Radio Amore Napoli. Ti aspettiamo per info scapegeot.it, scapegeot Napoli e anche su Facebook.